Ma io dico no, ma io dico no, ma io dico no, ma una volta che il Napoli ci serviva, una volta che il Napoli ci serviva, che il Bologna va a Napoli, una volta che il Napoli ci serviva, niente, niente, manco con le mani, manco con le mani ragazzi, il Bologna batte il Napoli al San Paolo dimostrandosi una squadra enorme, io mi sento, tra l'altro superando la Juve, andando a più 7 dall'Atalanta che comunque ha 4 partite da giocare, andando comunque a più 7 dalla Roma che ha in questo momento 3 partite da giocare, però se la Roma non dovesse vincere contro l'Atalanta a Bergamo, anche se poi in realtà, sì, può ancora perché se la Roma vince va a 63, l'Atalanta resta a 60, poi se le vincono tutte e tre la Roma va a 69 e l'Atalanta va a 69 vincendo le tutte e tre compagnie di recupero e quindi la Juve può vincere tutte, ok, non è ancora matematica la Champions League del Bologna, però è questione veramente di secondi ragazzi, è questione veramente di millimetri di punti, di mezzi punti, di un quarto di punti, di dieci minuti di gara, il Bologna ragazzi è in Champions League, il Bologna ragazzi l'anno prossimo giocherà la UEFA Champions League e la giocherà con pieno merito, la giocherà con pieno merito perché il Bologna ha fatto una stagione straordinaria, poi nell'ultimo periodo si è cagata un po' sotto, perché arriva da uno storico in cui ha pareggiato a Frosinone, ha pareggiato con il Monza, ha pareggiato con l'Udinese, ha pareggiato contro il Torino, l'unica squadra con cui ha vinto, so, la Roma e il Napoli nelle ultime sette, poi le altre non le vedo in questo grafico, però per farvi capire ha vinto contro le due big. Ora, prima di dire qualunque cosa vi lascio qui sotto in descrizione il link per andare sulla pagina Instagram di Sportium Lab che vi dà la possibilità di vincere dei biglietti VIP per andare all'Osteria a vedere Milan in interview, Roma-Lazio-Napoli in Italia e in Europa, quindi mi raccomando, fate un tentativo, provate a vincere quei biglietti. Vi dicevo, il Bologna stramerita nel finale si è un po' cagata addosso, perché è chiaro, quando vedi l'obiettivo c'hai paura di perderlo, e quindi piuttosto ritieni lo 0-0 e punticino dopo punticino dopo punticino dopo punticino ti ci avvicini, però il Bologna ha fatto un campionato enorme e si merita, dal mio punto di vista, molto di più il terzo posto rispetto che la Juventus, poi la Juventus giocherà comunque contro la Salernitana, se vince la risupera, la rizzompa, rizzompa il Bologna, e lì poi è un discorso di meriti e va bene così, chi arriva sopra se lo merita, però che grande stagione, che grandiosa stagione che sta facendo il Bologna, grandiosa, 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 grandiosa. Non è la stessa cosa che posso dire del Napoli, ma per niente proprio ragazzi, non è per niente la stessa cosa, perché la classifica in questo momento vede il Napoli in Conference League, lo vede ottavo in classifica, e l'ottavo posto quest'anno vale la Conference League, finisse oggi Inter Milan, Bologna, Juve e Atalanta andrebbero in Champions, Roma e Lazio in Europa League, a meno che l'Atalanta non vinca l'Europa League, in quel caso anche Roma in Champions, Lazio in Europa League, il Napoli in Conference League, poi la Fiorentina se vince la Conference League va in Europa League, si giocherà la finale con l'Olimpia, però al netto di ciò ci tengo a sottolineare come se la Fiorentina vince, cioè ragazzi la Fiorentina ha 50 punti, ha un punto in meno del Napoli, ha due partite in meno, cioè quindi si tratta proprio di una squadra che ha ottime possibilità di arrivare sopra il Napoli, ma ce ne ha ottime, ottime no, ma molto buone anche il Torino che ha 47 punti, e se dovesse nel caso vincere a Verona domani arriverebbe a 50-1 dal Napoli, quindi anche il Torino si gioca le sue carte per la Conference League del prossimo anno. Detto questo, vi dicevo, il Napoli è una cosa inguardabile, con questa sconfitta so 13 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte, io mai avrei immaginato il Napoli così male, cioè avrei immaginato magari, sto per diventare cieco raga, mamma mia che fastidio, avrei immaginato magari un Napoli quarto, io avevo detto il Napoli per me deluderà le aspettative, arriverà quarto, ma un conto è deludere le aspettative, un conto ragazzi è arrivare ottavi, ma se ti dice bene, se no noni, decimi, cioè sembra quasi che il Napoli voglia perdere le partite per non andare in Conference League, poi in qualche modo potrebbe anche essere così, cioè io non lo so, però veramente qualcosa di clamoroso. Poi il Napoli è anche sfigato, perché se devo andare ai punti, almeno un gol lo meritava, ma secondo me anche qualcosa di più. Però la cosa che mi sorprende è che il Napoli sbaglia sempre, come se arrivi sotto porta, però non è il mordente per fare gol, e questa è una cosa che pesa, questa è una cosa che pesa tanto, cioè il non avere la cazzimma di voler trasformare evidenti occasioni da rete, sotto porta ad esempio, è una cosa che pesa tanto, cioè il Napoli, vedo adesso, c'è un expected goals di 1,51, cioè il Bologna 1,29 ha fatto Dugot, per farvi capì, cioè il Napoli non segna manco con le mani, ha fatto il 60% di possesso palla, 15 tiri contro gli 11 del Bologna, di cui sei in porta, di cui contro i 4 del Bologna, tiri fuori 6 a 5 per il Napoli, tiri fermati 3 a 2 per il Napoli, calcitangolo 9 a 3 per il Napoli, e però il Napoli insegna manco con le mani ragazzi, il Napoli insegna manco per sbaglio, non riesco a capire come diamine sia possibile, e dall'altra parte non riesco a capire come diamine sia possibile, che Tiago Motta, continua a cambiare, ma proprio con la tranquillità di quelle ragazzi, inaudite, oggi dice no, oggi dice Skorowski non gioca, ma così eh, non gioca, c'erano tutti, mancavano solamente Ferguson e Somaoro, ma sono rotti da tanto tempo, e va bene così, dice, oggi non gioca Skorowski, mettiamo Ravaglia, oggi evitiamo, Orsolini fa panchina, gioca Odgar, ma perché? Se il Megar fa panchina, gioca Andoje, ma perché? Non facciamo giocare Fabiano oggi, facciamo giocare Urbanski, ma perché? E io sono lì che mi domando e dico, ma come diamine sia possibile, Bevuche ma non gioca oggi, come non gioca? Bevuche ma oggi non gioca, va bene così, e poi? Poi Bologna vince, e io non riesco a capire come diamine sia possibile, che Tiago Motta li cambia, li sposta, li stravolge, fa giocare chi fa giocare, ripeto, con la Roma, con la Roma, non giocano Orsolini, e non gioca, né Orsolini, e né, e né, e né Selmeker, no, Selmeker gioca, non gioca Orsolini, Selmeker ci fa un culo così, non gioca Orsolini, gioca El Azuzzi, e El Azuzzi, ed El Azuzzi fa gore una lasciata, oggi non gioca Orsolini, non gioca Selmeker, giocano Andoje e Odgar, e Andoje segna, questo è il Bologna raga, questo è il Bologna, e non ci dimentichiamo, che il Bologna fa, gol dell'1-0 al nono minuto con Doje, gol del 2-0 al dodicesimo minuto, con Posh, su pallone di Calafiori, che è un altro calciatore, che il Bologna dovrà fare, un culo così, per cercare di trattenerlo, io non penso che ci riuscirà, sarà veramente difficile, che il Bologna riesca a trattenere Calafiori, dopo 12 minuti, il Bologna è 2-0 a Napoli raga, e lo tiene, e lo tiene per 90 minuti, ma di che dobbiamo parlare, ma il Bologna adesso raga, non è una squadra, cioè è come, io non riesco a capire, come diamine sia possibile, non riesco a capire che gli hanno fatto, ma il Bologna ragazzi, è come parlare, più dell'Atalanta in questo momento, probabilmente, per come sta giocando, cioè come, ma più della Juve, cioè è una squadra che vince, ogni weekend c'è il Bologna che vince, cioè stop, vai a Napoli, vince a Napoli, vai a Roma, vince a Roma, ma questo ragazzi è, è sinonimo, è sinonimo, di una gran cosa, è sinonimo di una gran cosa, di un atteggiamento enorme, di un atteggiamento enorme, il 56 esito diceva, beh buttiamo dentro il Sunil Magar, è perché ci fa piacere, così, D'Amblay, Fabian, Fabian ne lo mettiamo dentro a 20 dalla fine, così, perché ci fa piacere, raga ma, ma è una cosa importante, Zirze non segna, sti cavoli, tanto segnano tutti gli altri, ma voi rendete conto di cosa sta facendo il Bologna, perché secondo me non ce ne rendiamo conto, il Bologna l'anno prossimo giocherà la UEFA Champions League, il Bologna il prossimo anno giocherà la UEFA Champions League, giocherà la UEFA Champions League, pazzesco, cioè vedremo forse Bologna-Barcellona, Bologna-Bayern-Monaco, poi non lo so, cioè, bisognerebbe anche parlare di quello che potrebbe essere il futuro, del club, perché, Tiago Motta sembra essere promesso sposo alla Juve, molti di questi calciatori, Zirze mi viene in mente, mi viene in mente sicuramente Fabian, mi viene in mente sicuramente Calafiori, bisognerà capire che cosa faranno, perché non so se rimarranno tutti, non so se ne rimarrà anche solamente uno, è difficile, se arrivano offerte grosse, qualcuno mi ha detto, bisogna vedere se il Bologna va in Champions League, e soprattutto Zirze con che maglia decide di giocare alla Champions League, e uno mi ha scritto, se il Bologna va in Champions, per esempio Zirze la giocava al Bologna, io non penso, ma io non penso perché, in questo momento Zirze è un giocatore, cioè pesa anche al Bologna Zirze, rischi di fare un po' come ha fatto, vabbè no, non in quel contesto lì, cioè rischi di fare un po', dicevo come ha fatto Bulaie Dia alla Salernitana, ma non che è la prossima retrocedica, magari alla prossima arrivi quinto, sesto, settimo, perché può capitare, resti ad altri livelli, ma magari arrivi in Europa League, Zirze fa una salione così e così, e ti passa a valere 18-20 milioni, non credo, non lo so, però l'anno scorso Bulaie Dia sembrava Gesù, sembrava un ira di Dio, quest'anno lo vendranno a 6-7 milioni, se va bene, con la Salernitana ultima, quindi rischi che sia un peso, ti conviene quasi cedere Zirze a 50, 40, 60, quanti te ne danno, e prendere un attaccante comunque valido da lanciare, forse è la cosa che ti conviene di più, però bisognerà capire, ecco su Calafio, io Zirze a Roma me lo prenderei ora, però Zirze a meno che gli dai il triplo dello stipendio, non c'è via una Roma, perché dovrebbe venire, meno che non vai in Champions anche tu, in quel caso poi ti fanno a scelta, perché cambia niente, se vai in Champions tu, cambia solo dove vuoi andare a giocare, e lo stipendio, però io ecco, se dovessi scegliere proprio su carta bianca, Zirze me lo prenderei spendendo i soldi che chiedono, Calafiori non lo so, forse è giusto perché è romano, è romanista, però comunque Calafiori lo vedo più come un rischio, Calafiori per me è molto più un rischio rispetto che Zirze, perché è pompato tanto, Napoli che oggi prova pure, mi fa ride perché, mi fa ride in senso non cattivo, mi fa ridere, mi fa sorridere il fatto, il Napoli provi anche a dire, guarda non sperimentiamo, non mettiamo tre quartisti da mezzali, ali da punte, punte da ali, oggi giochiamo come tempo gioca, con Olivera che è sinistro a sinistra, Di Lorenzo che è destro a destra, difesa a quattro, Juan Jesus, Rackmani centrale, Lobot che è mediana, Anghi sa vicino a lui, eccomo non c'era Zielischi, c'era Cagliuste, davanti Cuaro, Simen, Politano, cerchiamo il gioco come giochiamo sempre, eppure regà, vabbè, va detto pure, va detto pure che Politano si mangia un rigore, però, però pure così, pure così, Napoli poi ci prova a buttare dentro un gonge, raspadori, tra ore, e il Napoli ha fatto, ha fatto un mercato che fa ride, io continuerò a dirlo, lo dicevo, la gente mi insultava, vi meritate questo, vi meritate questo, gonge non male, gonge ha già avuto bene, però, Napoli ragazzi ha comprato a caso, ha comprato tre quartisti, punte, mezze punte, ali, fantasisti, mezzali di inserimento, cioè si capisce un cazzo di quello che ha fatto, seconde punte, io non lo so, esterni di centrocampo giocando chi terzini, terzini giocando chi esterni di centrocampo, c'ha una croccata, c'ha vedete tanti no quando io faccio le rebuilding, quando facevo le rebuilding sulla play no, che ci mettevo tipo tutti i terzini, due terzini a destra, due terzini a sinistra, quattro difensori centrali, due esterni sinistri, e io odiavo quando c'erano tipo, tre centri di difesa, un terzino destro, due terzini sinistri, un esterno destro, due esterni sinistri, un ala, due tre quartisti, una mezzala, una seconda punte, due punte, perché era un progetto fatto a cazzo, ecco il Napoli è quella roba lì, è un progetto fatto a cazzo, e credo che molto pesi, nella stagione del Napoli, il fatto di aver messo in piedi un progetto, ripeto, scusatemi, fatto a cazzo, quella cosa lì secondo me pesa veramente, veramente tanto, e il Napoli è questo qua, è una squadra che l'anno prossimo dovrà, credere in un allenatore, io lo ripeterò, lo ripeterò, lo ripeterò, lo ripeterò, se il Napoli avesse deciso di continuare con Garzia, oggi il Napoli sarebbe lì, sarebbe lì, nessun allenatore con questa squadra, perché il Napoli non è scarso, avrebbe fatto 51 punti in 36 partite, il Napoli li ha fatti, perché ha cambiato tre allenatori, Spalletti ieri ha detto, tre allenatori si cambiano in cinque anni, se va male, il Napoli oggi sarebbe, non dico, il Napoli c'ha 9 punti dalla Champions, il Napoli c'ha 9 punti dalla Champions, non so se voi vi rendete conto, che il Garziano li facevi, se avessero creduto in Garzia per me il Napoli, l'avrebbe già presa la Champions, cioè per niente, avrebbe tipo 64 punti, 63, meglio per noi, che siamo comunque attaccati alla Champions League, però sarebbe lì, sarebbe lì, non è lì, non è lì, perché ha cacciato Garzia, io avrei fatto tutto l'anno con Garzia, a fine anno, ciao Rudy, grazie per quello che ci hai dato, chiaramente non possiamo andare avanti, va bene così, stop, il Napoli sarebbe arrivato quinto, quarto, avrebbe preso la Champions League, e avresti iniziato un progetto nuovo, hai cambiato tre allenatori, quello è l'errore, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio, ciao.